Sono un giornalista, De Gennaro, sono giornalista e non sono un pregiudicato. Io non sono un pregiudicato. Io non sono un pregiudicato, io non ho condanne, io non ho condanne, non sono un pregiudicato, bene, meglio così, meglio così, io non sono un pregiudicato, bene, bene, faremo soldi, bene. Rissarcimento del danno in beneficenza per i malati di cancro. E stasera tutto su Facebook. Signora, 109.000 visualizzazioni. Avete riempito il Maracanà di Rio de Janeiro.